Dai forza, chiamatelo per favore! Voi lo sapete che faccia il nostro figlio? Dai! Non l'avete mai visto? Il sindaco! Non lo sapete che faccia? Mai visto? Sconosciuto anche per voi! Forse è passato dalla fidanzata! Ma perché fidanzata? Quanti anni ha? Adesso vieni! No! Quanti anni fa? 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 Stiamo parlando di tumori! Perché stiamo andando i posti? Scrivete che non ci vogliono aprire la sala consigliare! Voi che siete di giratura nazionale fatelo sapere! Così, i cittadini crotonesi non sono ben accetti al comune di Crotone! Dai! Dai! Pristatedabilirli! Grazie a tutti.